ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video sono matteo massironi psicologo laureato in neuroscienze e psicologia sperimentale formatore rspp autore del libro da formatori a formatori e fondatore di sicurezza comportamentale e virtual safety lab oggi parleremo di un argomento che non è esattamente divertente ma è molto importante il disastro di macondo per chi non lo sapesse è successo nel 2010 sulla piattaforma di perforazione deep water horizon causando una delle peggiori catastrofi ambientali della storia uno dei punti chiave dell'indagine su questo incidente è stato l'uso degli approcci comportamentali alla sicurezza da parte di transoceano il proprietario della piattaforma l'idea era di rinforzare i comportamenti sicuri e correggere quelli non sicuri ma c'è stato un problema il problema che questi programmi si concentravano solo su ciò che era facilmente osservabile come la violazione delle norme e delle politiche di sicurezza sul lavoro e non sui pericoli per la sicurezza del processo non vogliamo dire che gli approcci comportamentali non hanno alcun vantaggio perché possono aiutare a ridurre i comportamenti non sicuri sul posto lavoro ma ci sono anche altri vantaggi meno tangibili come il fatto che la direzione dimostri il proprio impegno per la sicurezza o che i manager imparino a pensare ai fattori umani però per aumentare la possibilità di successo dobbiamo essere consapevoli dei limiti degli approcci comportamentali e preparare il terreno prima di tentare un intervento dobbiamo anche considerare che questi programmi sono solo uno strumento nella cassetta degli attrezzi del professionista della sicurezza e che gli incidenti hanno cause più profonde insomma ragazzi il distancio di Moncado ci insegna che non possiamo semplicemente concentrarci sui comportamenti individuali per prevenire gli incidenti dobbiamo considerare tutti i fattori che possono contribuire a un incidente e agire in modo proattivo per prevenirli e non dimenticate la sicurezza prima di tutto in conclusione vorrei ringraziare tutti per aver seguito questo video sull'argomento importante come il disastro di Macando spero che abbia fornito una comprensione più profonda degli approcci comportamentali alla sicurezza e ai loro limiti vi esorto a seguire il nostro canale per ulteriori informazioni e discussioni su questo e altri argomenti importanti vi chiedo inoltre di supportare il nostro canale iscrivendovi mettendo mi piace e cliccando sulla campanella per rimanere sempre aggiornati non esitate a commentare per farci sapere i vostri pensieri e domande grazie ancora per la vostra attenzione ciao grazie 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 grazie